Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Esce di strada con l'auto e finisce nel fiume, individuato dal 118 Non si placano le proteste per gli espropri della società autostrade Domenica si vota, Cecchini si ricandida alla guida del Carnevale di Fanno Tra poco in diretta, Missione Salute, focus su Alzheimer, sclerosi multipla e epilessia Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera a tutti cari telespettatori di Fanno TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Cominciamo e partiamo da un incidente che si è verificato questa mattina a Isola del Piano Subito le immagini con la fotografia che ritrae quest'auto Che è finita praticamente su un burrone Si tratta di un peruviano di 43 anni che è uscito di strada con la sua vecchia Opel Corsa Precipitando appunto per diversi metri su questo burrone dove scorre il torrente L'auto si è rovesciata, l'uomo è rimasto cosciente ed è riuscito a chiamare i soccorsi Non sapendo però dove si trovava con esattezza il peruviano Non riusciva a dare indicazioni utili e quindi è stato necessario diverso tempo Prima di riuscire a individuarlo Oltre ai vigili del fuoco di Fanno anche un'ambulanza del 118 E' stato richiesto anche l'intervento di un elicottero L'eliambulanza E' stato proprio il pilota del velivolo a scorgere tra la vegetazione l'auto E l'uomo che ancora si trovava all'interno dell'abitacolo Una volta a soccorso il 43enne è stato trasportato all'ospedale regionale di Torretti di Ancona Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi E adesso torniamo a parlare delle opere compensative dell'A14 Che stanno scatenando un vero e proprio putiferio Soprattutto tra coloro che stanno subendo appunto l'esproprio Ieri siamo andati a sentire Don Marco con alcuni residenti di Tombaccia Questa sera invece vi proponiamo un altro servizio Simona Zonghetti ha intervistato una signora che si trova a Sant'Orso E anche lei si trova nella stessa situazione Sentiamo La gente deve vivere Io ho fatto i sacrifici per pagare la casa che ancora sono dietro a pagarla Adesso mi trovo una rotatoria dentro casa mia E' preoccupata questa signora che abita in via Bellandra a Sant'Orso di Fano Il provvedimento di esproprio infatti è arrivato anche a lei Tramite una lettera di società autostrade Che entro il 2018 dovrà terminare i lavori per le opere accessorie Alla terza corsia dell'A14 Questa nuova strada dunque passerà proprio qua? Qua, qua, qui, qui Attaccata alla mia recensione Quindi lei insomma ha paura? Nel senso si chiede come farà ad entrare? Io come devo fare ad entrare col garage Per accedere alla casa con la macchina E in più tutto il rumore è sotto la finestra di casa Inoltre il valore economico a lei lo contano come terreno non edificabile Quindi agricolo Il terreno dietro la casa Il terreno viene, noi lo paghiamo, è fabbricabile, le tasse E ci viene valutato come agricolo Questa è una vergogna E mentre ci mostra la lettera ci spiega che l'è stata spedita solo alla settimana scorsa E che già fra pochi giorni arriveranno i tecnici E poi la gente bisogna che viene anche avvertita Deve avere anche il modo di muoversi Non che ti arriva la lettera dal tribunale Insomma tutto come un fulmine a ciel sereno In cui non ha nemmeno avuto il tempo di realizzare e capire che cosa cambierà con esattezza Io spero che cambino percorso Visto che c'è tanto terreno di un grosso imprenditore fanese Di fare un rotatorio più lontano da casa possibilmente A chiedere l'eventuale possibilità di modificare il percorso stabilito Sono anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Fano Che sulla vicenda hanno depositato un'interrogazione In una nota Omiccioli, Ruggeri e Ansuini Sottolineano l'annullamento del valore degli immobili E che l'impatto che queste opere avranno sulle abitazioni Sulla vita delle famiglie Non potranno essere indennizzati con nessuna quantità di denaro Mi si svalta il valore della casa E mi tolgono il modo di vivere Ecco ma cerchiamo di capire un attimo meglio Qual è il tracciato, dove passa questa strada Che cosa realizzerà Società Autostrade Lo abbiamo fatto chiedendolo proprio ai tecnici del Comune di Fano Sette chilometri di strade Quattordici rotatori e due ponti E una serie di bretelle che andranno a formare Un nuovo collegamento tra la statale Adriatica Sud Attraverso Tombacce e Via della Trave Fino a costituire di fatto una nuova circonvallazione Sono questi i lavori previsti per le opere compensative Alla terza corsia della 14 Un intervento di circa 60 milioni di euro Compresi 10 milioni di espropri Iniziato in questi giorni da parte di Società Autostrade per l'Italia Ora non rimane chi attendere la definizione di ricorso innanzi al Tarra Contro il diniego del nuovo casello di Fano Nord Ultimo tassello mancante di un sistema complesso e completo di opere infrastrutturali Soddisfatto il sindaco Seri che ha già avuto modo di incontrare Gran parte delle persone interessate agli espropri Ho spiegato a queste persone che tutte quelle modifiche che possono essere portate in corso d'opera Noi ci adoperiamo per verificarle Tenendo conto che siamo nella fase esecutiva Tutta la fase di discussione e di progettazione è già avvenuta agli anni precedenti Quali sono i benefici di questa infrastruttura? Allora prima cosa diciamo questa infrastruttura nel lato sud permette di dare un'alternativa al ponte sul fiume Metauro Che è l'unico per la zona di Fano sicuramente Quindi un'alternativa importante Inoltre permetterà un collegamento molto più rapido dalle zone di San Costanzo e Mondolfo Per arrivare alla zona industriale e quindi snellirà il traffico sulla Statale 16 D'altro canto il nuovo svincolo così come pensato eviterà ad esempio di andare a intasare il ponte di Sant'Orso Perché i cittadini che dovranno andare verso Marotta ed escono dall'autostrada Riusciranno a congiungersi alla bretella in maniera molto più comoda Evitando di entrare in città con il traffico di attraversamento Inoltre il collegamento migliore è anche verso il nord della città Fano nord, verso il fenile Perché ovviamente si eviterà di passare per la città Si eviterà di passare in via Roma, si eviterà di passare nella zona della trave E si arriverà direttamente alla zona di Belgatto In maniera molto più semplice e diciamo senza intasare il centro città La careggiata partirà dalla strada provinciale di Fenile fino alla zona di Tombaccia Non è ancora stabilito però da dove partiranno i lavori Perché Società Autostrade dovrà confrontarsi prima con il comune di Fano Facciamo una strada che parte dalla strada provinciale di Fenile Quindi con una rotatoria si innesta in questa provinciale e arriva fino a via Flaminia Dalla rotatoria di zona Belgatto attraversiamo l'Arzilla e arriviamo fino a via Roma Quindi parallelamente quasi all'autostrada Da via Roma si riutilizza il tratto esistente di via Roma Altra rotatoria, questa è un'altra bretella che arriva fino alla zona del Codma Quindi qui siamo in via Campanella Poi qui si riutilizza la viabilità esistente e c'è un'altra serie importante di opere di adduzione al casello esistente Quindi per entrata e uscita Poi si oltrepassa da via Papiria e da via Papiria arriviamo fino alla Tombaccia E a questo punto come procederanno i lavori? A questo punto dalla rotatoria di innesto con la via Papiria ci sarà l'adeguamento della via Mattei Fino all'incontro all'altezza dei nuovi hangar dell'aeroporto Dove inizierà una nuova arteria che proseguirà attraverso un sistema anche di rotatorie Con un ponte in affiancamento al ponte esistente dell'autostrada Proprio per limitare anche l'impatto ambientale molto elevato E raggiungere fino a raggiungere la provinciale orcianese Con un sistema di due rotatorie Una sulla via di camminate e una appunto sull'orcianese È possibile invece modificare il percorso in zona Tombaccia? Dunque abbiamo già in passato provato a modificare il tracciato Ma questa situazione presa in esame interferiva con la linea dorsale dell'AGIP E quindi non è stato possibile spostare tutto il tracciato a monte dell'autostrada Per cui questo tracciato è l'unico possibile Cercheremo tuttavia di migliorare per quanto possibile la situazione dell'esistente Cercando di limitare i danni alle famiglie il più possibile Insomma un progetto davvero impegnativo Dopo i disagi alla viabilità e i danni economici provocati dalla voragine di Aorciano Sono stati trovati i fondi per sistemare questa frana La notizia è arrivata dal consigliere regionale Federico Talè Per chiudere la voragine a Aorciano c'è la copertura finanziaria Una serie di incontri è stato raggiunto l'accordo per finanziare il progetto di ripristino della viabilità Ieri si è svolta la seconda terza assemblea pubblica che abbiamo fatto a Aorciano Anzi ci siamo dati proprio anche un metodo Quindi ci si vede tutti i mercoledì Anche il prossimo mercoledì ci si vedrà Per fare una sorta di stato di avanzamento dei lavori sul tema appunto della frana E in questa assemblea è venuto fuori proprio chiaro Ma lo sapevamo in primis lo sapevo io che abito lì proprio vicino I problemi che questa frana ha dato Grandissimi, grandiosi Perché? Perché comunque sia per i cittadini e quindi le famiglie Per dirne una i ragazzi tornano da scuola, da Fano, dalle scuole superiori Mezz'ora, un'ora dopo E quindi i ragazzi partono alle 7 del mattino e tornano per andare a scuola alle 3 del pomeriggio E non solo Aorciano ma in tutto il comprensorio Ma soprattutto le attività, i commercianti, quindi i negozi Però dopo vari incontri è stata trovata finalmente questa copertura? Sì, la copertura finanziaria adesso si è trovata E per questo devo ringraziare in primis il governatore Ceriscioli Il nostro presidente della regione Perché è stato lui che si è preso a cuore la situazione Sollecitato da sottoscritto naturalmente E insieme al presidente della provincia E insieme a Tiviroli, l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Hanno raggiunto per ora verbalmente questo accordo Che nei prossimi giorni dovrà essere scritto Quali sono ora i prossimi passi? I prossimi passi importanti e cruciali E quindi è questo diciamo l'obiettivo Quello di far partire nel più breve tempo possibile l'appalto La gara d'appalto e quindi l'inizio dei lavori Domani iniziano gli incontri con gli agricoltori di Camminate Di Tombaccia per illustrare il regolamento di Polizia Rurale L'appuntamento è per le 20.30 nell'ex scuola alimentare di Camminate Con questi incontri si vuole divulgare le buone pratiche agricole Con lo scopo di migliorare il deflusso delle acque meteoriche E prevenire sia le frane che i danni alle strade Domani pomeriggio invece alle 16.30 Nella sala di rappresentanza della fondazione Cassa di Risparmio di Fano Si svolgerà un convegno scientifico sulla corretta alimentazione Collegata al rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer o di altre demenze E' iniziato il conto alla rovescia per l'elezione del direttivo dell'ente carnevalesca Domenica dunque si vota Oggi a fare un bilancio degli ultimi anni Luciano Cecchini, il presidente uscente dell'ente carnevalesca Fra pochi giorni i fanesi amanti del carnevale decideranno come sarà composto Il nuovo consiglio direttivo dell'ente E per la prima volta saranno centinaia, addirittura 1741 i soci che ne avranno diritto Fra i candidati c'è anche il presidente uscente Luciano Cecchini Che oggi ha fatto un bilancio degli ultimi sei anni della manifestazione Fra gli obiettivi raggiunti c'è l'alto numero di tessere Visto che prima del suo arrivo furono al massimo 200 i soci iscritti Inoltre l'aver ideato una lotteria solidale capace di coinvolgere decine di associazioni E di devolvere in beneficenza solo nel 2016 oltre 28 mila euro Ma le novità sono state diverse Come il carnevale dei bambini diventato in poco tempo imprescindibile E l'aver riportato i veglioni fra i riti del periodo carnevalesco Molte cose hanno visto la luce finalmente Prima tra tutti è stato il mio primo lancio Dice facciamo conoscere la carnevalesca alla città Facciamo innamorare la città al carnevale Riuscito perché i famosi mille soci li abbiamo superati Superati abbondantemente Addirittura si rischia di doppiare la cifra Ed insieme tutto il consiglio direttivo Compatto meno due che hanno saltato il fosso Sono compatti nella mia rielezione E quindi nella composizione per il nuovo triennio C'è ancora tanto lavoro da fare Ha detto Cecchini Per rinnovare e lanciare sempre di più l'evento a livello nazionale E da tempo spiega che stiamo lavorando al carnevale 2017 E grazie alla collaborazione con Enrico Tosi Nelle prossime settimane sarà pubblicato Il primo dei tre volumi della grande enciclopedia del carnevale Senza dimenticare un archivio storico Consultabile da tutti in cui vengono raccontati Quasi 700 anni di storia della Kermess I sogni ce ne sono tanti Uno tra questi è stato un sogno nato da sempre Avere il museo del carnevale E grazie all'amministrazione Che oggi appunto tramite il nostro vice sindaco Marchegiani Porta avanti questa grande idea del Sant'Arcangelo Spero di vederla realizzata nel prossimo triennio Se sarò ancora io presidente me lo auguro Visto e considerato che tanta gente riconoscono In questo grande lavoro che è stato fatto Un rilancio completo dell'ente carnevalesca Ma soprattutto del nostro carnevale Che ormai è entrato a far parte di tutti i fanesi Che veramente ci stimano e ci vogliono bene Vi invito domenica alle 9 ex chiesa del suffragio E che dirvi Viva la carnevalesca e viva il carnevale Inizieranno il 23 di maggio prossimo E proseguiranno per 4 settimane Le riprese del film tv Ispirato alla storia di Lucia Annibali L'avvocatessa di Pesaro Sfreggiata con l'acido Da due sicari assoldati dall'ex fidanzato Che è stato condannato in via definitiva A 20 anni di carcere E allora se volete far parte Il film si intitolerà Io ci sono Ebbene se volete far parte dei figuranti Dovete presentarvi Potete presentarvi il giorno 18 maggio In via Gavardini 36 a Pesaro Dalle ore 10.30 alle 13 E dalle 15 alle 18 E quindi effettuare il casting E adesso ci colleghiamo con lo studio di Missione Salute Dove vedo che c'è pronto Lino Balestra Che tra poco andrà in onda Con la puntata dedicata Questa sera a un tema molto interessante L'Alzheimer E poi Lino? Poi ci sarà anche chi parlerà di epilessia Con l'ambulatorio che c'è qui Nell'ospedale Santa Croce di Fano E si parlerà naturalmente di demenza senile Di tutte le forme di demenza Quindi patologie altamente impattanti Sia sulla vita del paziente Ma anche sul suo habitat familiare Istruzioni per l'uso Saranno qui i medici del reparto di neurologia Di Marche Nord Che parleranno appunto di come si affrontano Queste patologie E dei servizi che Marche Nord Mette a disposizione di cittadini, pazienti E utenti tutti Bene allora buon lavoro Occhio alla notizia finisce qui Grazie per la vostra cortese attenzione A voi tutti l'augurio di una buona serata A domani